Se mi avessero spiegato la geografia come in questo libro l'avrei amata tantissimo. Ero un po' scettica sulla lettura dell'Atlante geopolitico dell'acqua perché pensavo che fosse una cosa per addetti ai lavori, molto complicata. Io poi di geografia non ho mai capito nulla. E invece è un libro preziosissimo sia per comuni cittadini e cittadine sia soprattutto per gli insegnanti. Questo libro ha un approccio integrato sulla questione dell'acqua presa da tantissimi aspetti diversi e messa in relazione con la crisi climatica. Beh, le cose ovviamente sono assolutamente strettamente correlate. All'inizio del libro, per chi si fosse dimenticato le lezioni di geografia nelle scuole dell'obbligo, spiega tutto il ciclo dell'acqua in maniera bellissima, molto chiara e molto grafica e fa capire come tutto questo ciclo dell'acqua si sia completamente distrutto, squilibrato a causa della crisi climatica. Le persone che contestano i miei contenuti dicendo «Eh, ma l'acqua, nulla si crea, nulla si distrugge, l'acqua continua a circolare» dovrebbero leggere questo libro. Ovviamente sono le persone che non lo leggeranno mai, purtroppo. Il libro ha una parte scritta e una parte grafica, resa da questi grafici stupendi, che sono anche soltanto bellissimi da guardare e che rendono la lettura molto piacevole. Il libro quindi spiega un po' di geografia, il ciclo dell'acqua, spiega anche le nuvole, come si formano, come girano le tempeste, come sono fatti i fiumi, i laghi, dove sono distribuiti, quali sono i più grandi laghi, eccetera. Sono tutte delle tematiche che si dovrebbero trattare in geografia normalmente. Due sono i capitoli che mi hanno colpita di più. Il primo è «acqua virtuale». Lo sapevo già dell'esistenza dell'acqua virtuale, ma grazie a questo libro ho capito l'importanza di questo tema. L'acqua virtuale è quella che è stata utilizzata in tutto il ciclo di vita di un determinato prodotto, per cui si scopre, ad esempio, che l'acqua virtuale dietro una bistecca è di 2311 litri di acqua. Se andiamo a paragonare le unità di consumo, la bistecca di Manzo è quella che in assoluto ha più acqua invisibile, nascosta, dietro di sé. L'altro capitolo che mi è piaciuto tantissimo è l'acqua in bottiglia, dove ho scoperto che esiste anche acqua in bottiglia con sopraindicata «acqua pubblica imbottigliata». Acqua pubblica, acqua del rubinetto, quella di cui noi non ci fidiamo, venduta in bottiglia di plastica. Lasciamo perdere. Chiaro, la lettura dell'Atlante geopolitico dell'acqua non è una lettura leggera, che dici «che bello, ho imparato un sacco di cose». Sì, si imparano tante cose, ma si soffre anche tanto, ovviamente, perché si parla della «water grabbing», della depredazione dell'acqua pubblica in posti dove già c'è scarsità d'acqua. Si parla anche delle guerre che stanno diventando sempre più frequenti, guerre per l'acqua. Quindi, chiaro, se soffrite di eco-ansia, non è esattamente il libro per voi, però secondo me l'eco-ansia si affronta anche informandosi correttamente. e spero che avrete voglia di affrontare questo bellissimo libro. Grazie. Grazie.